Come trasportare un lettino da viaggio? Niente di più semplice. Il lettino Joy si ripiega nella borsa in dotazione, grazie alla quale può partire con noi. Si piega e si spiega molto rapidamente. E così il bambino ha sempre il suo spazio. E io posso comunque tenerlo d'occhio, perché i lati sono fatti in tessuto a rete sottile ed è arroioso. La zanzariera protegge il bambino dagli ospiti indesiderati. Importante per la sicurezza, bloccare sempre le ruote. Quando il bambino cresce, amerà l'entrata apposta per lui. È perfetto per allenarsi a mettersi in piedi. Una piccola macchia? Nessun problema. Il materiale è facile da pulire. E se necessario, alzo il lettino, proprio così. E le ruote consente di spostarlo facilmente in un altro posto. Oppure andremo insieme dove ci porterà il cuore. Hai sentito? Andiamo in giro per il mondo!